Il 17 di settembre avremo l'anteprima del festival, un'anteprima con una camminata meditativa molto bella, molto particolare, con Don Paolo Squizzato del Circolo dei lettori di Torino, Torino Spiritualità, un incontro che avrà per tema la conoscenza del filosofo, scrittore americano Henry David Thoreau. e inizierà il festival mercoledì con le inaugurazioni, con concerti, incontri con autori che già faremo alla sera. Proseguiremo fino a domenica, domenica sera chiudendo il festival con il bellissimo spettacolo teatrale su Marcovaldo promosso in collaborazione con il teatro Il Maggiore con Servillo. Ci sarà la presenza di Stefano Mancuso a chiusura del nostro festival e quindi pensiamo di offrire alla città una trentina di appuntamenti molto interessanti con poeti, scrittori famosi che poi di volta in volta presenteremo anche attraverso la vostra emittente. Un festival che farà riflettere, ispirare tanti cittadini su un tema che è quello della mobilità e anche legato al verde e alla natura, ma un'occasione anche di incontro con personaggi noti penso ad esempio a Pepe Servillo, mostre d'arte, di fotografia, la possibilità anche in questa fase storica di vedere nella cultura un'occasione di rilancio e anche di ambizione per la crescita di questo territorio. Il distretto turistico dei laghi sostiene letteratura, sostiene la cultura? Sempre sostiene la cultura, sostiene questo movimento di pensiero che vuole una forma di turismo acculturato, intelligente, attento e rispettoso di questo nostro meraviglioso territorio. In un momento così delicato dove si parla anche di movimento, quindi inteso come trasporti, di trasporto green, di rinascita, di modo di ripensare il modo di vivere e di comunicare, soprattutto di muoversi e di spostarsi.